ciao ragazzi siamo qui oggi con un video dedicato finalmente alle forbici cosa succede che il pelo nella chiusura di taglio si porta verso l'esterno qui possiamo trovare un dente a coda di pesce un dente ad onda un dente a martello a t dobbiamo cercare di capire quello che vogliamo per quello che dobbiamo fare dritta e prendiamo una chunker le mettiamo una sovrapposta all'altro ok vedete che questa chunker apre di più di una dritta questa forbice diciamo che concettualmente è stata fatta per quello che vi ho detto ma ovviamente grazie a tutti